In primavera si vota per il rinnovo di diverse amministrazioni locali, fra queste c'è anche il comune di Casale Cortecerro, l'ex sindaco Pizzi ha sciolto la riserva a strada della partita. Guiderà la lista oggi al governo della città. In Lizza anche Federica Maggioli, figlia dell'ex sindaco Eligio. Assolti perché il fatto non sussiste, i dentisti del COC di Omeni accusati di aver asportato tutti i denti a una paziente senza che fosse stata informata dell'entità dell'intervento. Anzi, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla procura affinché valuti le dichiarazioni della donna che si era costituita parte civile al processo. Ora rischia di finire indagata per falsa testimonianza o calunnia. Approvato non senza difficoltà e con il numero legale ricostruito in extremis il bilancio di Verbagna, ultimo per questo ciclo amministrativo. Ancora una volta infatti la maggioranza era al di sotto dei 17 presenti necessari per garantire la seduta. Il bilancio è stato introdotto dal sindaco Marchionini che ha difeso la scelta di contrarre un mutuo per la sistemazione di piazza Fratelli Bandiera. Il sindaco ha anche evidenziato che 17 milioni saranno destinati alle opere pubbliche. Il documento pareggia sui 67 milioni di euro e le tasse non saranno aumentate. Torna a riunirsi venerdì sera il Consiglio Comunale di Omeni all'ordine del giorno. Il bilancio di previsione confermati gli investimenti già annunciati nel nuovo anno avvia la seconda tranche dei lavori di riqualificazione di piazza Beltrami. Nel 2019 si interverrà pure sugli impianti sportivi accantonati 200 mila euro. Voler vincere è saper perdere il titolo del libro di Michele Marinello sulla storia del basket Rosmini. Una lunga sequenza di aneddoti, curiosità, racconti, verità romanzate, una fatica letteraria che ha avuto una lunga gestazione. La prima idea di scrivere un libro sul basket racconta Marinello mi era venuta nei primi anni 2000, poi l'ho messa da parte qualche anno fa, ho ritrovato stimoli e voglia di realizzarmi. E ora eccoci qui.